Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In Firenze code a tratti tra la Strassigna e Firenze viadotto all'Indiano. Per le autostrade in direzione Pisa code sul bivio A1-11 provenendo da Roma e da Bologna e in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est. In A1 in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!